Federico Pizzutelli, Arezzo che allunga 8 la striscia di risultati utili consecutivi, però qual è lo spirito nello spogliatoio? Più la soddisfazione per aver recuperato una partita in inferiorità numerica o comunque l'occasione persa per conquistare 3 punti e restare scia a Gavorrano? Guarda, c'è rammarico perché oggi volevamo a tutti i costi 3 punti, ma per come si era messa la partita ci teniamo su punto stretto e per fortuna si gioca mercoledì, quindi abbiamo subito una partita da affrontare e di cercare di portare i 3 punti a casa perché per noi sono fondamentali per il proseguo del campionato. L'espulsione di Biondi sicuramente ha complicato tutto perché poi avete preso gol da lì a pochi minuti, però insomma Ciutbus aveva la sensazione che forse eravate meno brillanti di altre volte, soprattutto nel secondo tempo. Ma guarda, sono episodi che ci vengono un po' a sfavore, però per quanto mi riguarda io ero lì in campo e secondo me non era un fallo per come l'abbia visto l'albitro, però va bene così, dobbiamo anche accettare queste cose che ci possano dare un po' di destabilità, però noi siamo forti dentro lo spogliatoio, restiamo uniti e pensiamo alla partita di mercoledì con il Tiferno.